Buonasera, tra poco insieme con le notizie del telegiornale e inizieremo con la politica. Perché? Perché vedremo che è stata una lunga e agitata domenica, in particolare per un soggetto politico, il Movimento 5 Stelle, perché siamo alla vigilia di un voto importante. I 5 Stelle hanno deciso di sentire gli iscritti alla piattaforma Russo sull'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini. La questione è quella della nave di Ciotti, della Marina Militare, i migranti trattenuti, secondo il Tribunale di Catania a bordo. L'accusa è sequestro aggravato di persona, il Movimento 5 Stelle, rispetto al pronunciamento che ci dovrà essere poi in Senato, in Giunta, si vota martedì. Alla vigilia del voto martedì dicono, e quindi domani dovranno dire cosa pensano i nostri iscritti dalle 10 alle 19. Bene, chi è intervenuto oggi criticando la formulazione che domani troveranno sul sito, sulla piattaforma Russo gli iscritti? È intervenuto il fondatore, Beppe Grillo, che ha detto se voti in un modo invece significa l'altro. Insomma, ha criticato la formulazione attaccando e criticando pesantemente, cioè ironizzando, come a far capire, ma insomma che che volete fare? Volete far votare i nostri iscritti in un modo come volete voi? Insomma, la questione è aperta e quindi non sono, virgolette, i soliti dissidenti a far sentire la loro voce. Alla vigilia, dicevamo, di un pronunciamento che gli stessi 5 Stelle, da ambienti del Movimento, è arrivato un po' l'avvertimento a dire attenzione perché su quel voto si misura la tenuta dell'alleanza di governo. Passaggio importante, non secondario, come dicono gli stessi rappresentanti del Movimento. Naturalmente ci sono anche le reazioni, ci sono le voci degli altri, del diretto interessato, rispetto al procedimento di Salvini, delle opposizioni, di chi voterà come in giunta, ma insomma tutto questo lo racconteremo, dicevo, tra poco nel telegiornale, ma parleremo anche della nuova protesta in Francia, i gele gialli, ieri quattordicesimo sabato consecutivo. Oggi, l'avevamo detto, tornavano a tre mesi dall'inizio delle proteste, ma insomma il caso è quello ieri dell'aggressione al filosofo intellettuale ebreo Finkielkraut. Finkielkraut ci sono, è stata aperta un'inchiesta, sarebbe stato già individuato uno degli aggressori. Ma poi sentiremo anche gli aggiornamenti sulla trattativa tra governo e i rappresentanti dei pastori sardi sul prezzo del latte per produrre il pecorino, perché ieri proprio mentre andava in onda il telegiornale, alla vigilia avevamo detto, scusate, nell'imminenza dell'inizio del telegiornale, avevamo detto che era stato raggiunto un accordo tra il ministro Centinaio e i rappresentanti. Ecco, oggi ci sono stati segnali che c'è un'ala dura che non è che condivide quell'accordo. Poi c'è Trump che conferma il ritiro delle truppe dalla Siria e lancia un avvertimento nei confronti dell'Unione Europea, ma qual è l'avvertimento? Lo sentiremo tra poco nel telegiornale. Iniziamo con i titoli tra 30 secondi. Domani gli iscritti del Movimento 5 Stelle sono chiamati a esprimere il loro voto sull'immunità parlamentare per il ministro Salvini sul caso Diciotti. Non mancano le polemiche sul quesito proposto. Lo stesso Grillo critica con ironia dire sì per dire no i dubbi delle senatrici Nunes e di molti militanti. Dormo tranquillo e rifarei tutto quello che ho fatto, dice Matteo Salvini, che ribadisce di attendere con serenità la decisione dell'alleato di governo ad attoccare il Movimento 5 Stelle. Ci pensa però Silvio Berlusconi. Purtroppo Salvini si è fidato delle persone sbagliate, hanno paura e minacciano la Crici. La crisi, noi voteremo no in giunta. Identificato il principale autore dell'aggressione al filosofo ebreo Alain Finkielkraut, avvenuta ieri a Parigi durante la manifestazione dei gilet gialli, ha reso noto il ministro dell'interno Castaner. Alcune persone, riconoscendo Finkielkraut, lo avevano minacciato, rimongendo gli insulti antisemiti. Non mi sento né vittima né eroe, ma ho sentito intorno a me un odio assoluto il suo commento. Nuovo appello di Teresa May ai parlamentari del suo partito incapaci di trovare una linea comune sulla Brexit. Dovete mettere da parte le divergenze. L'accordo è necessario, la storia ci giudicherà tutti, dice il 27. Nuovo voto in Parlamento, intanto il leader dell'opposizione Corbyn tratta con Bruxelles. Tornano le proteste dei pastori sardi, nonostante la bozza di accordo presentata ieri dopo un vertice a Cagliari alla presenza del ministro Centinaio. Non bastano però i 72 centesimi al litro proposti per il latte o vino. E un passo indietro, siamo tornati all'offerta già scartata un mese fa, spiega il leader del movimento pastori sardi, Felicia Cloris. Buonasera, dunque in questa domenica di attesa alla vigilia del voto domani degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla richiesta a procedere nei confronti del ministro Salvini. Il colpo più pesante nei confronti dello stesso Movimento arriva oggi da Beppe Grillo. Beppe Grillo che ha preso le distanze bocciando la formulazione del quesito che verrà proposto domani agli iscritti, dicendo che si capisce poco e sembra quasi che si voglia fare confusione. Grillo, lo diciamo, è il fondatore ed ha comunque un ruolo ancora all'interno del Movimento, anche se ultimamente lui stesso ha detto di voler tenere una posizione defilata rispetto alle decisioni che sono quelle di chi guida il capo politico, di Maio, di chi guida il Movimento, di chi sta al governo. Però la sua voce, lo sappiamo, è importante e questa critica arriva nel giorno in cui sul blog delle stelle, la voce ufficiale quindi dei parlamentari del Movimento, si dice molto chiaramente, attenzione, quello su Salvini è un voto molto importante e si fanno capire che addirittura ne va della tenuta della maggioranza. Se voti sì vuol dire no, se voti no vuol dire sì. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste. Ricorre a un paradosso tratto da un celebre romanzo satirico e a un mito greco, Beppe Grillo, per prendere le distanze se non dal referendum in sé, dal modo in cui sul blog delle stelle viene riassunta la vicenda su cui dovranno pronunciarsi domani dalle 10 alle 19 gli iscritti del Movimento, quella che ha portato il ministro dell'interno Salvini davanti alla Giunta per le immunità per il caso 18, voto quest'ultimo atteso per martedì. Una ricostruzione, quella offerta agli iscritti, che ricalca quella presentata in Giunta dallo stesso Salvini e suffragata dalle due memorie firmate rispettivamente dal premier Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli. La decisione di ritardare lo sbarco in attesa di un accordo internazionale per la ridistribuzione dei migranti fu condivisa dal governo assunto che rinvierebbe dunque, secondo il blog, non già all'articolo 68 della Costituzione, quello sull'immunità appunto, ma al 98 che chiama in causa il governo nell'esercizio delle sue funzioni, che è, come è noto, la tesi sostenuta da Salvini, fino a condurre al quesito finale se il ritardo sia avvenuto effettivamente per tutelare un interesse dello Stato o no. Di qui il sì che significherebbe no all'intervento della magistratura nei confronti di Salvini, ossia l'inversione cui si riferisce sarcasticamente Grillo, mai parso così critico con un movimento ritrovatosi ora a fare i conti con una congiuntura che potrebbe mettere a rischio la stessa maggioranza con una votazione che raramente ha avuto un esito così incerto. Non per nulla fonti del governo 5 Stelle mettono in circolo preoccupazione per un'eventuale probabile crisi di governo che chiamerebbe in causa quella distanza interna che il passaggio da antistituzionale a istituzionale ha messo a dura prova, quella tra movimento e partito, con posizioni decisamente in bianco e nero. Da una parte, infatti, i capigruppo, Patuanelli e Duva, che difendono il referendum e la piattaforma Rousseau come esempio il primo e come strumento la seconda di democrazia partecipata, insieme a dichiarazioni di voto come quella di Gianluigi Paragone, quella del governo, sostiene lui, è stata decisione politica. Dall'altra, veri e propri appelli a votare in senso opposto, quello della Lombardi su tutti, per esempio la stessa Lombardi che tre giorni addietro aveva espresso perplessità sui troppi incarichi contemporanei di Di Maio. invito tutti gli iscritti domani a votare a favore dell'autorizzazione a procedere, scrive la capogruppo alla Regione Lazio, che però il suo no, cioè il sì, lo motiva a modo suo. Io sono personalmente convinta che il governo abbia ben agito in quel caso, così come sono assolutamente convinta che la correttezza delle sue azioni debba essere dimostrata nel processo. No, cioè sì, anche per le senatrici Nunes e Fattori, abituate da tempo a muoversi sul filo della possibile espulsione, ironizzano loro come grillo sulla chiarezza del quesito e ne mettono in discussione la legittimità. Allora, lo avete sentito nel servizio, domani il voto degli iscritti alla piattaforma sul caso 18, poi la giunta vota martedì, ma perché è così importante? I 5 Stelle sono lago della bilancia, insomma, con il bilanciere per fare facilmente i conti. Il centrodestra su 23 membri in tutto ne conta 10, con i 7 del Movimento 5 Stelle arrivano abbondantemente alla maggioranza. Ma vale anche il discorso inverso, perché l'opposizione PD con l'EU Grasso sono 5 e con i 7 dei 5 Stelle arrivano a 12, avrebbero la maggioranza. E quindi lì si deciderà la sorte di Salvini che oggi dice facciano come vogliono, io sono sereno. Giornalisti sono tanto appassionati sul fatto che domani ci sarà la consultazione online sul processo a carico del Ministro Salvini. No, ma io vi dico che dormo tranquillissimo, mi abbraccio il mio cuscino, mi sveglio tranquillo la mattina e se votano sì votano sì e se votano no votano no. Quello che ho fatto l'ho fatto per difendere il bene e la sicurezza dei cittadini di salute. Matteo Salvini continua i suoi tour in Sardegna una settimana dalle regionali ostentando tranquillità alla vigilia di un voto che sta già lacerando l'alleato di governo. Il leader leghista e il Ministro dell'Interno smentisce ancora una volta qualsiasi contrattazione tra il no all'autorizzazione a procedere ed altri nodi al centro degli scontri della maggioranza. Non siamo al mercato, dice, ma evita di drammatizzare l'appuntamento chiave di domani anche per non aumentare la pressione già forte sul leader alleato. Ne commenta il quesito sul quale gli iscritti alla piattaforma russo saranno chiamati ad esprimersi. Referendum volato dalle opposizioni come presa in giro. Io credo che si tratti davvero di una presa in giro che conferma chi sono questi personaggi assolutamente non adeguati, non all'altezza del governo di un paese, anche alleati per Salvini assolutamente inaffidabili. E dico alla Lega complimenti, i begli alleati che vi siete trovati, cominciate a ragionare seriamente sul futuro di tutti noi. Berlusconi punta ad un passo falso della maggioranza per rilanciare la sua proposta di un governo di centrodestra in grado di raccogliere in Parlamento i consensi necessari. Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, non crede che l'esecutivo giallo-verde cadrà sulla diciotti. Qualcosa mi dice che gli iscritti alla piattaforma Rousseau voteranno per non processare Salvini. Cari amici dei 5 Stelle, non sarebbe stato meglio dichiararlo subito invece di fare tutta questa confusione? Anche per Zingaretti, PD, l'esito è scontato. Questa buffonata annunciata della consultazione online, sulla quale tutti sappiamo come finisce, francamente è un altro segnale di un disorientamento e di una non assunzione di responsabilità. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di scaricare le responsabilità sui propri militanti invece di prendersi l'onere delle decisioni, aggiunge Maurizio Martina. Per Roberto Speranza, MDP, i 5 Stelle perderanno tutta la loro credibilità. Finora la propaganda del Movimento diceva uno vale uno, ora invece di fronte al ministro dell'Interno, vero capo del loro governo, questo principio non vale più. Gabriele Micalizzi è atterrato con un volo di Stato a Milano intorno alle 19, allo scalo militare di Linate. Micalizzi è il fotoreporter italiano ferito in territorio siriano lo scorso 11 febbraio, mentre documentava gli scontri tra i miliziani dell'Isis e forze kurde nella Siria orientale. 34 anni colpito al volto dalle schegge di una granata, è stato raggiunto sotto bordo da una ambulanza ed è stato trasferito all'ospedale San Raffaele ad attenderlo un'equip medica pronta per gli accertamenti necessari e stabilire con chiarezza il quadro clinico. Ed ora la Brexit in Gran Bretagna con la Premier Theresa May che ha spedito una lettera appello ai suoi compagni di partito, ai parlamentari conservatori. Perché? Perché la scorsa settimana hanno votato ancora una volta contro un prolungamento del dibattito alla ricerca dell'intesa per una Brexit, May che dice attenzione però se continuiamo così, se finisce senza un accordo, poi la storia ci giudicherà. Una lettera, 317 copie, tanti quanti sono i deputati conservatori a Westminster, una mittente, Theresa May, oggetto della missiva alla Brexit in arrivo oltre manica il 29 marzo prossimo. Una cosiddetta lettera aperta, un'implorazione se non un monito dopo l'ultimo schiaffo rimediato a giovedì scorso in Parlamento, proprio grazie alle frange e ribelli del suo partito, la May è infatti finita in minoranza dopo aver chiesto appoggio ai comuni per ultimare il negoziato con Bruxelles. Frange e ribelli sempre più intenzionate ad ostacolare quel divorzio dall'Unione che la stessa May vorrebbe più ordinato, coordinato e condiviso. Perché la storia ci giudicherà tutti, scrive la primo ministro britannica, bisogna mettere da parte le divergenze e non si deve tradire il popolo elettore e questo può accadere solo se il partito ritroverà quell'unità che sembra oramai lontana. Ancora una volta, centro, ultimo decisivo della questione, scrive la May, è la vexata a questo del backstop. Si tratta del meccanismo di salvaguardia del confine tra le due Irlande che dal 29 marzo diventerebbe una frontiera doganale a tutti gli effetti. Un'imposizione dell'Unione Europea che la May sta cercando di neutralizzare pur sapendo di non poterla cancellare del tutto dall'accordo finale. Aggiunge ancora la May, non pretendo di negare la sincerità e la profondità dei colleghi parlamentari, ma serve trovare un compromesso necessario per far approvare dal Parlamento il documento che sancisce l'abbandono di Londra dal Club dei 28. Il rischio di un non accordo, insomma, resta ben quotato. Per evitare un'uscita violenta servirebbe una soluzione finale con Bruxelles che modifichi i termini della Brexit per poi approdare in Parlamento, che comunque appare problematica. Insomma, il no deal avvicina ombre sempre più cupe sul Regno Unito, sul suo ruolo in Europa e anzitutto sulla sua economia. L'opposizione laborista in primis è più che preoccupata. Non a caso il leader laborista Jeremy Corbyn mercoledì dovrebbe essere proprio a Bruxelles per un tentativo quasi disperato di mettere a punto in extremis le basi necessarie, se servisse, ad arrivare ad una Brexit soffice che non riporti il regno di Elisabetta II indietro di decine di anni. In Francia sono passati, in Francia dappertutto, ma insomma, sono passati esattamente tre mesi per quello che riguarda le proteste dei gilet gialli, iniziati lo scorso anno, il 17 novembre. Manifestazione che ricorderete iniziò con dei blocchi sulle autostrade contro l'aumento del prezzo dei carburanti, poi è diventato altro, è diventata una protesta contro il governo Macron. Ieri nel mirino però c'è finita un'altra persona nel mirino dei gilet gialli. Sentiamo. Esattamente tre mesi fa, il 17 novembre del 2018, erano in 300.000. Manifestavano in massa contro il caro carburante. Oggi sono molti di meno, si contano a decine di migliaia e rivendicano le istanze più disparate. Il movimento dei gilet gialli è decisamente ridimensionato, ma continua ad esistere nonostante le conquiste ottenute. Il carburante non è aumentato e per chi ha più bisogno, il governo ha messo in campo agevolazioni fiscali e aiuti economici. Di oggi è inoltre una notizia che la popolarità di Emmanuel Macron, in caduta libera da mesi, per la prima volta risale leggermente, di un punto, dicono i sondaggi, al 28%, mentre il premier Edouard Philippe raggiunge il 31%. L'opinione pubblica in Francia, tradizionalmente solidale con chi protesta e manifesta malcontento, comincia ora, dopo 14 settimane, a mostrare un certo fastidio e parecchia stanchezza verso un movimento che, seppur sfilacciato e diradato, si mostra ancora violento e in alcuni casi razzista e antisemita. L'ultimo episodio odioso e inaccettabile è avvenuto ieri con gli insulti rivolti al filosofo ebreo Alain Finkielkraut da una folla inferocita di gile gialli. Un fatto che ha suscitato grande sconcerto e condanna da parte dell'opinione pubblica e del governo. Uno dei protagonisti è stato identificato, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell'ordine. A fare luce sarà in ogni caso un'inchiesta accurata, aperta dalla Procura di Parigi, anche se lo scrittore ha detto di non voler presentare denuncia contro chi gli ha dato dello sporco sionista e gli ha intimato di tornarsene a Tel Aviv. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, il prolungamento del quattordicesimo atto di ieri in occasione dei tre mesi dall'inizio, per le strade di Parigi hanno sfilato in non più di duemila persone, senza incidenti e decisamente sottotono. Ed ora invece parliamo del nuovo tweet, la nuova presa di posizione del Presidente americano Donald Trump, che ha scritto che conferma il ritiro, in tempi brevissimi, delle truppe impegnate in Siria. Ma in realtà la notizia è un'altra, perché dice via le truppe e a quel punto ci sono i prigionieri catturati dell'Isis. Ecco, il processo a quelli, chi glielo fa glielo devono fare i paesi dell'Unione Europea, perché noi ce ne andiamo, dice Trump, e se non fate voi, e quindi è una questione economica, per quanto ci riguarda li possiamo lasciare liberi. Gli Stati Uniti stanno chiedendo a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Donald Trump, che a dicembre, contro la volontà del Congresso, aveva annunciato il ritiro di circa 2000 marine dalla Siria, chiede all'Europa un ulteriore impegno nella lotta contro il terrorismo jihadista. L'alternativa non è buona, saremo costretti a rilasciarli e il monito di Trump. Dopo una vittoria al 100%, il califato è pronto a cadere, ha spiegato il presidente americano, ma gli Stati Uniti non vogliono vedere questi combattenti arrivare in Europa, dove si prevede che vadano. Noi abbiamo fatto e speso molto, avverte Trump, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare. La decisione dell'amministrazione USA di abbandonare la Siria continua a provocare forti malumori non solo nella politica statunitense, ma anche tra i militari. I vertici del Pentagono, anche nelle ultime ore, hanno ribadito tutto il loro disappunto per la decisione della Casa Bianca. Non avrei suggerito al presidente il ritiro, ha spiegato il generale Joseph Votel, che è a capo del CENTCOM, il comando centrale. Eliminare il califato non è abbastanza per la sconfitta dell'ISIS. Nel resto, anche i combattenti kurdi, inquadrati nelle forze democratiche siriane, che da anni si fronteggiano con i jihadisti di al-Baghdadi, hanno ripetuto che la battaglia con quel che resta dell'ISIS a Baguz, ultima sacca di resistenza nell'est della Siria, proseguirà fino alla liberazione di prigionieri e civili detenuti dai miliziani. Alle polemiche legate al disimpegno statunitense contro il califato e all'out-out lanciato da Trump nei confronti degli alleati europei, si sono aggiunte nelle ultime ore anche quelle innescate dalle rivelazioni fatte dall'ex direttore dell'FBI, Andrew McCabe. Intervistato dalla CBS McCabe, ha detto che nel 2017 il vice procuratore generale Rod Rosenstein, dopo il licenziamento dell'allora numero uno dell'FBI, James Comey, aveva avanzato l'ipotesi di sollevare dal suo incarico Donald Trump, perché in quel momento era davvero preoccupato dal Presidente, dalla sua capacità e dai suoi obiettivi. Ricostruzione che però Rosenstein avrebbe smentito. Sembra davvero appreso a un filo l'accordo trovato ieri nella imminenza, tra l'altro era verso le 20 dell'inizio di questo telegiornale, tra il Ministro dell'Agricoltura Centinaio, il leghista Centinaio e i rappresentanti dei pastori sardi. Stiamo parlando del prezzo del latte per produrre il pecorino. Ieri si parlava di una cifra intorno ai 70 centesimi, ricorderete con poi intervento della Regione e dello Stato per portarlo gradualmente verso l'Euro. Oggi i pastori sardi c'è un'ala dura che prende posizione e dice ma quello è un accordo vecchio, ci eravamo già arrivati e non ci andava bene. 10.000 litri di latte di pecora sversati sulle strade doveva essere il primo giorno della tregua. Invece la risposta dei pastori sardi alla bozza di intesa raggiunta ieri dopo il lungo vertice nella prefettura di Cagliari e quanto è successo questa mattina a Cuglieri, provincia di Oristano dove un camion che trasportava 10 tonnellate di latte è stato bloccato e l'autista costretto a svuotare tutto il contenuto della cisterna. Per ora è un gesto isolato ma domani nel giorno in cui le aziende che per protesta hanno bloccato la produzione dovrebbero ricominciare a lavorare. Quanto è successo a Oristano potrebbe ripetersi con scene come questa. Un segnale piuttosto chiaro che l'accordo previsto sulla base dei 72 centesimi di euro come prezzo per la vendita del latte e per la produzione del pecorino romano secondo alcuni è troppo basso sicuramente lontano da quell'euro più IVA che a più riprese gli allevatori avevano chiesto nei giorni caldi della protesta. Poco fa un pastore è salito su un alto traliccio dell'energia elettrica Orta Cesus centro-sud dell'isola una protesta che oggi e per i prossimi due giorni doveva essere sospesa nella tesa che il frutto del summit di Cagliari tra Regione e Sardegna Governo Consorzio Pecorino Romano e Pastori venisse presentato nelle campagne per la sua approvazione definitiva ma se ieri c'era fiducia su una possibile ratifica della bozza d'intesa anche grazie all'acquisto delle forme rimanenti di pecorino che dovrebbe far alzare nei prossimi mesi il prezzo della vendita del latte oggi la situazione sembra diversa sui social nelle chat degli allevatori si discute ed emerge la volontà di rifiutare l'accordo e proseguire con blocchi come questi con il latte sversato sulle strade piuttosto che venderlo a un prezzo sotto i costi di produzione la preintesa è un passo indietro dice il leader del movimento Pastori Sardi Felice Floris anche la CIA agricoltori italiani ha ribadito il proprio no all'accordo e chiede una garanzia che il prezzo di vendita al litro del latte di pecore arriverà a un euro in tempi certi il prossimo tavolo della filiera della produzione del pecorino romano è previsto per il prossimo 21 febbraio a Roma al Ministero delle Politiche Agricole a pochi giorni dalle elezioni regionali in Sardegna in quella sede dovrà arrivare una risposta definitiva la bozza d'intesa raggiunta ieri ma le prossime ore saranno decisive per capire se le proteste sono destinate a continuare e adesso lo sport anzi il calcio con la moviola in campo ricordate per anni è stata invocata da tutti i tifosi sportivi giornalisti come la soluzione di tutti i problemi beh insomma sta diventando qualcos'altro perché tanti tifosi sono ormai abituati allo stadio insomma aspettano ad esultare ma ora rischia di diventare un incubo a vedere quello che è successo in una partita di oggi quando la partita la risolve il VAR 29esimo del secondo tempo Spal e Fiorentina sono sull'1-1 il viola chiesa cade in area dopo un contrasto con Felipe l'arbitro Pairetto non ritiene di dover sanzionare l'azione prosegue con un ribaltamento di fronte che ben 35 secondi dopo porta al gol degli emiliani firmato da Valoti un gol pesante visto che la Spal non vince in casa dal 17 settembre ma l'esultanza dei padroni di casa viene subito gelata addetto al VAR Mazzoleni invita Pairetto al videocheck tre lunghissimi minuti che sovvertono la partita l'intervento di Felipe su chiesa era fallo e dunque l'azione andava interrotta in quel momento annullando di conseguenze il gol di Valoti e poiché il fallo era in area a Pairetto non resta da regolamento che assegnare il rigore alla Fiorentina trasformato da Veretù e così dal potenziale 2-1 per la Spal si passa a un 1-2 per la Fiorentina tra i boati del pubblico e l'avvilimento dei giocatori Spallini trafitti poi altre due volte prima del fischio finale un fischio che di finale in realtà non ha nulla perché è solo l'inizio di una valanga di polemiche quando succedono queste partite succedono questi episodi dopo ti senti veramente che ti abbiano portato via qualcosa che ti abbiano rubato sotto gli occhi non è un fallo netto di rigore insomma gli pestano la punta dei piedi e lui fa un gran salto tanto sappiamo che chiesa inventa questi falli è una sua dote quella di inventare i falli di rigore insomma una persona poco seria al di là della rabbia per una vittoria sfumata con una modalità tecnologica finora inedita il presidente della Spall può forse in realtà recriminare solo sulla tempistica della decisione tre minuti sono davvero troppi in situazioni di campo delicate come quella dello Stadio Mazza e i dirigenti delle squadre piuttosto che accusare giocatori di scarsa serietà o contestare gli arbitri farebbero meglio ad accettare nei suoi pregi e nei suoi inevitabili difetti uno strumento la cui efficacia è stata attestata al Mondiale e voluto furor di popolo anche dagli ottavi di questa Champions League anche perché il rispetto delle regole deve essere dogma in un calcio che quando quelle regole non le rispetta cade nel grottesco in Serie C il propiacenza stipendi non pagati da sei mesi e già per tre volte non presentato se alla partita ha mandato in campo a Cuneo una formazione di soli sette ragazzini per evitare l'esclusione dal torneo prevista al quarto forfè una farsa come l'ha definita il presidente Federcalcio Gravina terminata con un risultato 20 a 0 che mortifica non solo i giocatori in campo ma il calcio intero troppo spesso immerso in un far west in cui obblighi e regole vengono puntualmente sbeffeggiati e allora adesso adesso il collegamento come ogni domenica con Massimo Giletti non è l'arena come al solito tanti ospiti di primissimo piano vero Massimo? Ciao Paolo buonasera buonasera a tutti beh certo c'è Matteo Salvini questa sera che parlerà di tante cose ha messo la faccia sulla questione del latte che è ancora in corso non è ancora risolta parleremo di quello che succederà domani sul caso Diciotti ma il TAV e tante altre situazioni che sono molto anche il Papa anche il Papa oggi ho visto che aveva un distintivo che diceva no alla chiusura dei porti quindi sono curioso di vedere che risposte mi darà e poi c'è un confronto con il mio ex direttore direi uno Fabrizio Del Noce che dice che io alimento l'odio contro chi ha le pensioni d'oro ora siccome io ideo molto spero che sarà un confronto civile ma sono curioso di vedere cosa succederà ci vediamo tra poco dopo di voi sempre qui non è l'arena e allora ci sono tante cose da copriosità e informazioni notizie da sentire dopo il telegiornale con Massimo Giletti noi adesso facciamo una breve pausa ci risentiamo tra qualche minuto per gli eventuali aggiornamenti di nuovo in studio e come aggiornamento andiamo a leggere insieme a voi il bollettino che è arrivato pochi minuti fa dall'ospedale di Circolo di Varese dove è ricoverato da giovedì scorso Umberto Bossi ha avuto un malore ricorderete nella sua abitazione di Gemonio è caduto e allora si parla di condizioni gravi ma stazionarie il paziente è sedato e è costantemente tenuto sotto controllo condizioni gravi ma stazionarie come dice appunto il bollettino medico di questa sera per quanto ci riguarda è tutto buon proseguimento di serata